Conferenza stampa di lancio presso la cittadella regionale di Catanzaro dell'ottava edizione della Star Cup Calabria, la Business Plan Competition promossa da Università della Calabria, Università Magna Grecia, Università Mediterranea e Fincalabra attraverso Calabria Innova. La Star Cup Calabria seleziona idee di imprese innovative proposte da studenti, laureati, ricercatori, docenti e neoimprenditori calabresi. Noi riteniamo che per costruire il futuro della nostra regione, il futuro produttivo, è necessario investire nella innovazione, sostenere le imprese innovative. Questo progetto, il progetto Star Cup, appunto muove in questa direzione. Nella programmazione comunitaria 2014-2020 abbiamo destinato risorse, circa 40 milioni di euro, per sostenere le imprese innovative. Partirà oggi una selezione che vedrà giovani talenti, giovani imprenditori che utilizzeranno i risultati anche della ricerca con il concorso delle università calabresi. Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate tutte le fasi dell'iniziativa, a partire dagli eventi di presentazione presso i tre atenei calabresi, fino al village, ovvero lo scouting itinerante, per la raccolta delle idee su tutto il territorio regionale. La competizione che in questi ultimi anni ha raccolto su tutto il territorio regionale più di 500 idee di impresa innovative, offre la possibilità di trasformare un'idea di business in una realtà imprenditoriale di successo. Consente di scoprire, animare, animare il territorio, accompagnare, quindi avvicinarsi a tutti i soggetti che possono esprimere delle progettualità e poi si conclude promuovendo dei progetti di impresa, alcuni dei quali poi sono nati in questo percorso e hanno avuto grande successo in questi anni, delle nuove start-up che comunque oggi lavorano bene sul mercato e sono tra le più significative a livello regionale. Per cui è chiaro che è un percorso questo interessante, che si inserisce comunque in un quadro più ampio di interventi che la regione sta facendo per promuovere l'intero sistema innovativo. Sarà possibile candidarsi alla Start Cup Calabria attraverso il sito web dedicato www.startcupcalabria.it a partire dal 12 maggio fino all'inizio dello scouting che aprirà i battenti il prossimo 26 maggio.